...definire, ma va verso quella direzione di maggior coinvolgimento. Sala Grimita, la fondazione Carifano per il convegno intitolato Amministrazione condivisa e coprogettazione, governare il presente e il futuro degli enti locali. L'incontro organizzato dall'ACLI di Pesero Urbino e da altre associazioni si è svolto alla presenza di relatori di caratura nazionale. Oltre 80 le persone, tra amministratori regionali e locali e rappresentanti di organizzazioni del terzo settore che hanno seguito con vivo interesse i vari interventi che si sono susseguiti dedicati ai processi e agli strumenti dell'amministrazione condivisa spaziando dalle indicazioni della normativa di riferimento il codice del terzo settore e la sentenza 131 del 2020 della Corte Costituzionale fino all'effettiva applicazione sui territori passando per alcune buone prassi già realizzate. E' emersa un'importante fase storica del nostro paese dopo l'approvazione della sentenza nel luglio del 2020 sull'amministrazione condivisa e che ha portato e ha certificato che gli enti del terzo settore e la pubblica amministrazione alla pari sono soggetti del bene comune della loro comunità Siamo in un momento in cui due principi fondanti stanno alla base di questa tematica e sono stati ben illustrati da Erika Capasso la presidente della fondazione urbana del comune di Bologna e anche delegata al terzo settore del sindaco Lepore L'esperienza di Bologna che è stata portata come buona prassi ha proprio dato a noi e naturalmente i partecipanti lo hanno anche approfondito il patto territoriale per l'amministrazione condivisa con il terzo settore cioè un patto costruito con un processo partecipativo e un patto che di fatto mette sul concreto e quindi dà una risposta sia alla sentenza della costituzionale sia soprattutto anche all'articolo 55 che è l'articolo con cui la riforma del terzo settore definisce i processi di coprogettazione e coprogrammazione Che importanza hanno questi percorsi partecipativi? Le politiche pubbliche o sono partecipanti o non sono politiche pubbliche Questo è l'assioma importante con cui il terzo settore sia nel suo contesto del welfare ma anche negli altri contesti della pubblica amministrazione anche l'urbanistica, anche altri contesti che in questo momento poi sono all'ordine del giorno del nostro comune sono il pilastro dei processi con cui i cittadini codecidono con le amministrazioni le linee sulle quali costruire nei loro territori le politiche Grazie